benvenuti benvenuti a tutti buon pomeriggio grazie per essere qui a questo appuntamento in cui parleremo di innovazione futuro ma soprattutto di ecosistema Italia ringrazio innanzitutto eh i gli organizzatori dell'evento l'evento realizzato da Opificio Innova in collaborazione con Innois io sono Chiara Trombetta lavoro da Pitalia che è un partner di questo appuntamento insieme a Banco di Sardegna oggi in questa in questa oretta che passeremo insieme proveremo ad affrontare le tematiche più più urgenti le più impellenti che dobbiamo appunto vedere per riuscire a far sviluppare sempre di più il nostro il nostro ecosistema lo faremo con due ospiti da d'eccezione che tra poco saranno qui con me sul palco ma prima ricordo che l'evento è in diretta streaming su Matex TV la web tv di Opificio Innova sul sito di Opificio Innova e da lunedì sarà anche eh trasmesso eh indifferite quindi lo potrete rivedere direi di entrare subito nel vivo di questo appuntamento e chiamerei subito con me sul palco Elio Schiavo a capo della divisione Enterprise di team benvenuto Elio e Carlo Mannoni direttore generale della fondazione di Sardegna benvenuti eccoci andremo ad analizzare un po' di parole chiave un po' di concetti ma soprattutto dire dal dal concetto proprio di come far innovare questo ecosistema Italia e qual è il futuro quelle sono quelle tematiche più urgenti che stiamo vedendo insieme prima oggi so che è uno dei primi appuntamenti il primo appuntamento di noise per quest'anno quindi ti chiedo Carlo quali sono le le novità e che cosa sta cosa state lavorando? Sì grazie eh sì in effetti eh il kick off delle attività di quest'anno eh magari non tutti conoscono in noi se noi se la piattaforma della fondazione di Sardegna su temi proprio dell'innovazione in noi vuol dire innovazione e idee per la Sardegna le finalità le vedete in questo eh in questa slide è quella sostanzialmente la nostra funzione è quella di aiutare insieme agli altri operatori sia privati che pubblici il sistema l'ecosistema come dicevi tu a crescere eh creare animare connettere e interagire con tutti gli altri sia all'interno del nostro mondo ma soprattutto verso l'esterno per questo abbiamo un programma eh piuttosto articolato durante l'anno se mi mettete la seconda l'altra slide è così i nostri partner ne abbiamo già detti prima fondazione Banco di Sardegna ma anche il fondo nazionale eh dell'innovazione CDP Venture il comune di Cagliari il comune di Sassari e le due università e come dicevo abbiamo un programma che eh parte sostanzialmente da adesso e si si snoda durante tutto l'anno alcuni appuntamenti sono degli appuntamenti eh classici uno su tutti è il CEO Sardinia ventitré ormai siamo alla alla terza edizione la terza edizione in fisica quarta considerando l'anno della pandemia ma abbiamo anche una serie di altre iniziative Digital Island è un bellissimo progetto che sarà eh online eh live a giugno eh un progetto con Open Campus sulla leadership femminile previsto per luglio a Sassari l'automotive con gli amici di Abinsula e poi come tutti gli anni la Start Cup insieme alle due università eh chiaramente in mezzo a tutto questo macro progetto ci sono una serie di altre attività le facciamo con tanti partner tra i quali Opificio con i quali eh prossimamente faremo una serie di altre attività cito su tutte una mostra molto bella dopo quella di House of Robotics dell'anno scorso che sarà eh che sarà diciamo presentata nelle prossime settimane e magari se ci dovessimo riuscire a fare qualche pezzo di Sio Sardini anche qui in manifattura non sarebbe bruttissimo eh io voglio ringraziare Elio perché oggi è qui con noi perché eh Elio è uno è un caro amico ma eh è una persona che ha un'esperienza interessantissima da un punto di vista umano e ovviamente da un punto di vista professionale ed è anche una persona che ci aiuta un po' ci sfiderà un po' su un po' di temi se posso dire eh per farci capire cosa sta succedendo intorno a noi quindi grazie e a voi la parola. Grazie Carlo. Infatti Elio sei tornato da periodo all'estero sicuramente dal tuo osservatorio privilegiato ci puoi invitare oggi in questa in questa ora che passeremo che passeremo insieme eh guidi appunto la divisione enterprise di team che da anni è impegnata su diversi temi strategici ci vuoi raccontare anche tu quale sono per te le priorità oggi su cosa state lavorando? Allora innanzitutto grazie a tutti per il tempo che ci dedicate sappiamo che è venerdì pomeriggio sono le 18 e 30 vedo che ci sono sedie che insomma sicuramente per temi di sostenibilità sono molto interessante non saranno comodissime insomma riguardo da qui però quindi vi ringrazio per il tempo che trascorrerete con noi pazientemente ehm allora innanzitutto vi devo dire che io sono molto contento di avere l'occasione per la prima volta nella mia carriera professionale ho vissuto molti anni all'estero però di fare questo esercizio in Sardegna che è un posto al quale sono molto legato eh per temi affettivi non banali perché sono sposato dal 1999 con una con una sarda che per la prima volta è nel nell'audience da quando io faccio questo da quasi faccio questo quindi devo stare un po' attento a quello che vi dico perché ai rimproveri tipici insomma ci potrebbe aggiungere oggi quelli che cosa hai detto ma perché l'hai detto però io proverò diciamo a rubarvi dieci minuti eh tra l'altro mi fa molto piacere che questo evento mi dà anche l'occasione di incontrare delle persone che con me lavorano sul territorio che diversamente non avrei mai possibilità di incontrare perché noi abbiamo un gruppo di cinque mila e quattrocento persone che sono distribuite in tutto il paese e purtroppo io non ho l'opportunità di incontrare fisicamente molti di loro quindi mi ha fatto molto piacere oggi stringere qualche mano a qualche collega. Allora io vi ruberò una decina di minuti per fare sostanzialmente quattro cose. La prima eh è un po' un pugno nello stomaco perché io vorrei eh darvi la sensazione chiara di qual è la condizione nella quale questo paese dal punto di vista della tecnologia si colloca nel panorama europeo. Il secondo pezzo breve è spiegarvi un po' io chi sono e che faccio e in che cosa mi aiutano i colleghi alcuni dei quali sono qui seduti insieme a voi perché io ho un titolo professionale che sembra una poesia di Ugo Foscolo in realtà faccio una cosa molto semplice. Il mercato si divide in società che erogano servizi e prodotti ai consumatori e società che erogano servizi e prodotti alle imprese e alla pubblica amministrazione. Noi facciamo tutte e due le cose. Io gestisco la parte pubblica e privata e quindi non mi occupo della parte consumer. Quindi nell'anima team che guarda a tutto il segmento business pubblico e privato, governi, pubblico amministrazioni, aziende grande, piccole, municipalità, comuni, tutto quel perimetro è sotto l'ombrello della mia responsabilità. Quindi questo è un po' quello che sinteticamente faccio, però cercherò di spiegarvi perché è importante per il sistema paese il ruolo che noi giochiamo. Il terzo contributo sono veramente due pillole di futuro. Ci farò vedere come secondo noi funzionerà una città tra qualche anno, forse tra non molti mesi e poi vi farò vedere brevemente un video su un progetto bellissimo che noi abbiamo fatto, che è talmente tanto bello che non sembrerà che l'abbiamo fatto noi, però l'abbiamo fatto noi, che è un sito sulla virtualizzazione del sito archeologico di Pompei, che è una cosa che vi racconterò perché diciamo è un mio sogno nel cassetto e perché credo che sarà una cosa importante in futuro. Però diciamo parto dal primo pezzo che è questo. Io ho evitato di fare come farebbe un americano di farvi la domanda ma secondo voi qual è la posizione del nostro paese? Ve lo dico, noi siamo diciottesimi in Europa in termini di digitalizzazione del sistema paese. Questo è un indice, il DESI è un indice che controlla le economie digitali di tutti i paesi. Se guardiamo ai servizi digitali erogati ai cittadini siamo ventiquattresimi, cioè i paesi sono ventisette, a parte Romania, Ungheria e Portogallo, tutti gli altri erogano servizi ai cittadini in una maniera più friendly della nostra. Quindi siamo davvero molto in ritardo dal punto di vista della digitalizzazione del sistema paese. Stiamo messi un po' meglio dal punto di vista dell'adozione del cloud perché in una media europea che è del 26%, noi siamo al 38%. Quindi su quell'area specifica noi stiamo recuperando un po' di svantaggio. Allora, perché vi ho fatto vedere questo? Non vi volevo deprimere di venerdì pomeriggio, però vi faccio, vi ho fatto vedere questo dato perché io sono molto appassionato di due dimensioni, spazio e tempo. Allora, noi avremo sempre più bisogno di spazio sulla nuvola, nel cloud, cioè il nostro mondo sta migrando da infrastrutture sul remoto a infrastrutture su cloud e vi spiegherò noi che facciamo in questo percorso. Avremo sempre meno tempo, non ne abbiamo più. Cioè noi camminiamo da una velocità molto molto più lenta rispetto al mercato. Se perdiamo questo treno avremo un grande problema perché prima facevamo una chiacchierata con Carlo nel suo ufficio e io gli dicevo quando noi eravamo giovani, frase tristissima però, quando noi eravamo giovani, essere bravi era un elemento distintivo molto forte. Cioè se tu eri uno studente bravo all'università, iniziavi a lavorare bene in un'azienda e riuscivi a collocarti in un radar dove le persone erano attenti a quello che tu facevi, essere bravo era tutto quello che ti serviva ed è la ragione per la quale io ritengo insieme ad altri di essere stato molto fortunato perché diciamo sono stato premiato molto spesso per quello che ho fatto e credo che l'ho fatto anche perché lavoravo in un sistema che era molto meno competitivo. Oggi essere bravi non è più un asset distintivo. Cioè se una persona entra nel mio ufficio, fa un'intervista con me e mi dice che è bravo, io dico vabbè la seconda frase, la terza, perché oggi devi essere bravo, devi essere veloce, ma devi essere curioso. Cioè tu devi alzare la testa dal telefono, che è quello che fanno ogni giorno le mie figlie per ora, guardare a destra e a sinistra e capire cosa c'è dietro l'angolo. Perché oggi mentre noi camminavamo ad una velocità uguale a quella del mercato e quindi se tu eri bravo ti portavi un po' più avanti, oggi il mercato cammina a una velocità rapidissima e se non ci sali, se non connetti con i trend, resti molto indietro. Quindi diciamo questo è un primo tema che riguarda il sistema paese. Diciamo che cosa siamo noi? Non vi voglio annoiare su quello che fa Tim, però cerco di spiegarvi con un disegno che cosa fa un'azienda che lavora in un ecosistema digitale. Allora noi sostanzialmente siamo la piattaforma più grande ICT che c'è nel paese perché eroghiamo servizi di connettività, rete fissa e mobile, abbiamo un'infinita capacità di collocation che significa che abbiamo 16 data center nei quali possiamo ospitare una capacità di dati che potrebbe essere utile per la NASA, abbiamo infrastrutture di cloud e eroghiamo applicazioni cloud e poi eroghiamo servizi di cyber security e IOT, quindi sensoristica che misura i movimenti delle persone, delle strutture, del traffico. Allora in questa slide che cosa vedete? Allora immaginate qui ci sono agli estremi, cioè ci potrebbe essere una fabbrica a destra, un ufficio in basso e una città a sinistra. Quelle che vedete tracciate in verdi sono le connessioni in fibra, cioè noi teniamo connesso il paese con fibra super veloce o con fibra veloce o meno veloce a seconda delle regioni, delle zone, però il sistema è interamente connesso. Che cosa succede? Questo sistema si collega delle antenne che vedete lì 5G e noi portiamo quel traffico all'interno di quei palazzi che sono i nostri data center e mettiamo i dati in sicurezza. Quindi se io lavoro con un'azienda, prendo tutto il patrimonio dell'azienda, i clienti, i dati sulle vendite, la proprietà intellettuale, i brevetti, il sistema di assistenza ai clienti, lo porto da un'attività fisica su computer, sul cloud, lo metto in sicurezza, quindi lo difendo da attacchi cibernetici di altri competitor, di altre strutture e poi con la sensoristica provo a fare delle cose che vi illustrerò tra poco. Allora sulla cyber security, quindi sulla sicurezza, leggete credo ogni giorno ci sono attacchi, ieri ve lo cito solo perché mi è sembrato un dato curioso, mia moglie doveva fare delle analisi, si è regata nel laboratorio di analisi, abbiamo un attacco hacker, oggi non vi possiamo servire, torni domani. Che è una cosa che cinque anni fa innanzitutto non se ne sarebbero accorti e secondo proprio non accadeva. Ecco se io posso spiegarvi con un esempio cosa significa questa cosa e rendervi un po' inquieti questo significa che ogni sera ognuno di voi va a letto, in particolare se ha un'azienda, dorme e mentre voi dormite c'è gente che è random ogni tanto, entra a casa vostra, sto parlando di un'azienda perché chiaramente per un privato questa cosa è meno comune, però immaginatevi avere un'azienda, voi siete un imprenditore, va a letto e dorme, mentre voi dormite nella vostra azienda entrano delle persone nella vostra cucina, apparecchiano la tavola, aprono il frigorifero, mangiano, tolgono la tavola, puliscono, escono e voi non ve ne accorgete. Questa è una cosa che accade molto molto spesso. Allora mettere quei catenacci tra il sistema remoto e il sistema sulla nuvola consente a tutte queste imprese di evitare che queste persone mangino a casa l'ora di notte o se dovesse accadere almeno se ne accorgono e quindi siamo in grado di tracciare, quindi è un pezzo molto rilevante della catena del valore. Quindi questo è in estrema sintesi il tipo di servizi che noi come azienda eroghiamo. Questo è quello che accadrà tra qualche anno in alcune città. Venezia è una città che funziona già così, cioè se voi oggi in tutte le città italiane chiedeste a tutti i sindaci italiani come funziona la tua città, l'unica persona che lo sa oggi è il sindaco di Venezia, perché dispone di un cruscotto che da remoto gli consente di vedere in tempo reale inquinamento atmosferico, inquinamento dell'acqua, traffico su gomma, traffico sull'acqua, quindi sui canali navigabili, sa perfettamente quanta gente c'è su ogni marciapiede, dove va, da dove viene, quanto tempo ci sta e soprattutto, questo ve lo dico in maniera confidenziale, per quanto possa essere confidenziale un evento con 100 persone, però diciamo questa cosa noi la rendiamo, cioè ci mettiamo un esponente N, quindi l'amplifichiamo molto in termini di potenza, perché come tutti voi sapete almeno il 40% di tutte le sim che sono nei telefoni di questo paese sono collegate a nostre antenne, quindi noi in modalità anonima, perché chiaramente non ci interessa il nome della persona e non ci interessa nemmeno comunicarlo, però noi non solo sappiamo quanta gente c'è sul marciapiede, ma sappiamo se è napoletano, se è francese, se è tedesco, che età ha, se è un uomo, una donna, quanto spende, dove è entrato, dove è uscito, in che hotel ha dormito e in che negozio sta entrando, quindi questa cosa avrà un livello di potenza dal punto di vista degli analytics che fa, da un lato fa spavento, dall'alto ti consente di tenere in totale controllo la tua città. Per darvi un esempio che è un po' triste, però che vi può aprire un po' la testa sulla potenza di questa cosa, tra le cose che questa piattaforma misura, e questa è una cosa evolutissima, qui c'è cloud, ci sono infrastrutture cloud, c'è intelligenza artificiale, ci sono sistemi di sensoristica IoT, quindi noi colleghiamo, nel caso di Venezia, ai traghetti, ai moli, agli angoli delle strade, dei sensori che misurano la velocità alla quale si muove la persona, il battello, la macchina, l'autobus, il treno, il vaporetto, quindi... Però diciamo, la cosa che rende potente questa cosa è che, dato che c'è collegamento a sensori anche satellitari, quindi c'è prevenzione di fenomeni atmosferici, noi non siamo in grado di prevedere che ci sia un alluvione o un terremoto, però se il livello dell'acqua, l'intensità della pioggia, la forza del vento aumentano, noi siamo in grado, con un'ora di anticipo, di dire al sindaco, porta tutte le persone al secondo piano, perché i primi piani si allagheranno tra due ore. Ecco, questa cosa qui, nei fenomeni tipo Marche, Ischia, quindi fenomeni atmosferici che hanno distrutto intere famiglie, avrebbe consentito a quelle popolazioni in emergenza di adottare delle misure che purtroppo non sono state adottate. Ora, non voglio fare qui il venditore dei tappeti persiani, però questa è una cosa davvero molto, molto sensitive, con la quale noi stiamo parlando con tutti i sindaci di tutte le città italiane. Non vi faccio vedere un video su questa cosa, diciamo, sulla destra di questa slide, che forse è la cosa più facile da memorizzare, è un sistema che fa monitoraggio ambientale, vede flussi turistici e mobilità urbana, rischi ideologici, efficienze energetiche, eccetera. Cioè, questa è una cosa che potrebbe migliorare la raccolta dei rifiuti, il consumo dell'energia. In una città che è sempre accesa, quando il traffico ti riduce, tu puoi spegnere a macchia di leopardo un pezzo dell'infrastruttura. Questa qua ridurrebbe molto i consumi energetici, se però hai un'infrastruttura tecnologica che ti consente di farlo. Faccio un ultimo pezzo, volo su questo, ci volo perché sennò perdo troppo tempo. Questo è il progetto di cui vi parliamo. Questo è veramente un pezzo di futuro. Questa è una cosa che voi non avete visto, che non c'è in quasi nessun paese europeo. Noi abbiamo fatto una virtualizzazione degli scavi archeologici di Pompei durante un concerto di Max Gazzee che celebrava un album dei Pink Floyd. È una cosa che a Bruno, che sono qui davanti, tu saresti impazzito. Però vi faccio vedere, allora qui c'è, non solo c'è cloud, IoT, sensoristica, data analytics, connessione super veloce, qua c'è realtà aumentata e intelligenza artificiale. Quello che voi vedrete ora, ve lo dico dopo, perché intanto lo faccio vedere. Grazie a tutti. Allora, questa cosa qui, se voi l'aveste vista, è fatta di due cose. Cioè al di là di tutta la tecnologia che io descrivevo, se voi fossero entrati, cioè se stavate a Pompei un'ora prima del concerto, c'erano due cose. C'era un telo bianco dietro l'orchestra che ha suonato, un telo bianco, della dimensione di quello nero che vedete lì in fondo, un po' più grande, e davanti al palco c'era un binario dove correva velocissimo una telecamera che andava avanti e dietro, che lavorava su intelligenza artificiale, in realtà aumentata, collegata ai sensori. E mentre c'era il concerto veniva riprodotto, diciamo, Pompei come era, cioè chiaramente prima dell'erosione del Vesuvio. Quindi qui il sogno è che ci può essere un cinese, povero, che dalla Cina, con due dollari, con due euro, con quattro sesterzi, non so in che moneta lo potrà pagare, potrà visitare gli scavi di Pompei, restando a casa sua. Allora, quindi la cosa bellissima, cioè Cagliari, non so, il Gen Argento, sono tutte cose che noi potremmo portare in tutto il mondo con uno sforzo relativamente basso, se ci dotassimo di questa tecnologia, e la realtà che voi vedete aumentata è inquietante, cioè questo era fatto con dei telefoni millimeter wave, quindi con tecnologia molto molto avanzata, che noi abbiamo dato al pubblico per fare la simulazione che voi vedevate. Però, tra un po', usciranno, arriveranno sul mercato una serie di hardware che vi consentiranno di vedere una partita di calcio da casa come se voi steste allo stadio, cioè esattamente con la stessa emozione, collegando più persone come se stessero insieme a guardare la partita. E quindi queste cose, se potete immaginare quante altre cose, alcune molto inquietanti si potrebbero fare, però questo è davvero dove il mondo sta andando. Noi rispetto a queste cose stiamo un pochino più indietro. Mi fermo qua perché sennò vi annoio troppo. hai davvero usato una un'espressione che è pezzo di futuro, cioè davvero un po' portato in questo viaggio facendoci scoprire un po' di pezzetti di futuro che un po' sono già qui e stanno altri, stanno arrivando davvero una rapidità incredibile. Io adesso vorrei fare con voi un momento di riflessione proprio a partire da alcune parole chiave che abbiamo individuato, tante le abbiamo già in realtà percorse nei vostri discorsi di adesso, ma proprio per andare un po' a indagare una riflessione per un confronto proprio su come sta cambiando il nostro ecosistema, come sta cambiando anche rispetto alla competitività che c'è invece che ci preme, quindi tutta la parte diciamo anche estera e qual è il processo che c'è in atto in questo momento. Se siete d'accordo lo farei proprio a partire dalle prime parole chiave che abbiamo individuato, ne abbiamo abusato un po' oggi di queste, innovazione ed ecosistema Italia. Carlo. Sì, ma allora, diciamo così, oggi il punto focale è su Elio, quindi Elio verrà sottoposto a delle domande sostanzialmente da parte nostra. Credo che con queste parole il tema vero per noi è duplice, ecosistema Italia rispetto al resto degli altri sistemi, quindi rispetto al sistema europeo e mi verrebbe da dire Europa versus Stati Uniti, tu hai passato gli ultimi anni negli Stati Uniti a lavorare nella più importante azienda del mondo, quindi diciamo hai sicuramente un'idea. Dal nostro punto di vista provo lì a buttare qualcosa, noi siamo una isola piccola in mezzo al Mediterraneo e quindi per noi il grande tema dell'ecosistema Italia è che più cresce l'ecosistema Italia e più noi credo abbiamo opportunità di essere connessi. In ultima analisi credo che per la Sardegna il tema si pone come capacità di collaborare. Oggi abbiamo parlato anche prima con Elio del tema dei grandi cambiamenti che sono venuti anche post-covid, il tema del remote working, il tema di avere team di lavoro, team di ricerca distribuiti, il tema anche di distribuire un po' il rischio se vogliamo, no? Da un punto di vista della differenziazione territoriale per i paesi. Noi crediamo che questa sia un'opportunità per questo nostro ecosistema. Magari se c'è qualche consiglio, qualche suggerimento rispetto a questo scenario che anche tu ci vuoi dare è benvenuto. Allora, due parole complicate, domanda molto impegnativa, però provo a raccontarvi un po' la storia dal punto di vista delle emozioni che abbiamo un po' vissuto anche noi come famiglia girando un po' il mondo. Siamo stati negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra, in Turchia, in Tunisia, in Belgio. Insomma, secondo me, avendo fatto tutte queste esperienze, parto proprio dall'ultima che sicuramente, almeno dal punto di vista dell'innovazione dell'ecosistema, è stata la più solida con la quale mi sono confrontato. Cioè io credo che, diciamo, noi siamo probabilmente le persone più brave del pianeta e siamo anche, diciamo, le persone più rapide nel capire i problemi e trovare le soluzioni, no? Cioè noi abbiamo un po' girato il mondo. Io devo dire che ogni volta che mi mettevo a pensare a come noi ci collocavamo, cioè in comparazione con altre, trovavo che noi abbiamo questo istinto che, diciamo, che oggettivamente ci fa emergere in molte situazioni. Però secondo me, qua, diciamo, non voglio dire una cosa negativa perché io credo che in tutte le situazioni negative ci sono grandi opportunità, no? Nel ritardo di un paese c'è un'opportunità da cogliere e la dobbiamo cogliere insieme, no? Non ci dobbiamo piangere addosso, ma dobbiamo capire come invece accelerare e trovare le soluzioni. Allora, se io torno indietro, faccio una carrellata rapida, no? Vi dico, ci sono dei paesi dove voi non potete entrare in una riunione senza un'agenda. L'Inghilterra, ad esempio. In Germania non uscite da un meeting senza una decisione. In America dovete avere un'agenda e prendere una decisione. Noi queste cose non le facciamo e non sono cose difficili. Cioè noi molto spesso ci riuniamo, convochiamo riunioni di 30 minuti con 20 persone con argomenti tipo come andare su Marte, no? Cioè cose ci vorrebbero 12 giorni in tre, poi parlarne in sei e inevitabilmente usciamo dalla riunione e diciamo, beh, tanto poi ne riparliamo domani, poi ci vediamo domani, poi ti chiamo dopo domani, mi raccomando, ci vediamo sabato a Capalbio. Alla fine non si riesce mai. Allora, noi dobbiamo uscire per fare innovazione e per creare un ecosistema, dobbiamo uscire da un'equazione che dice siamo molto bravi a risolvere i problemi, perché lo siamo. Quello che io trovo difficile in quello che noi stiamo facendo come paese è che noi stiamo dimostrando a tutti ed anche a noi stessi che siamo molto bravi a riparare le cose che si rompono. Gli altri stanno pensando a come costruire cose che non si rompono. E quindi sono due punti di vista completamente diversi. Cioè l'America, c'è questa azienda, che è l'azienda per la quale ho avuto il privilegio e l'onore di lavorare, è un'azienda che fa una cosa molto semplice, ti vende un prodotto e poi ti fa pagare cento dollari all'anno per l'assistenza. E sapete cosa succede? Il prodotto non si rompe. Ogni volta che tu paghi cento dollari, li metti nella tasca di quell'azienda. Perché il livello di servizio e loro devono erogare è zero o vicino a zero. Se tu fai cose che si rompono, anche se vendi l'assistenza, entri in un loop dove rompi le cose, le ripari, il cliente si lamenta e quindi il cliente... Ci sono due cose che servono per fare questa cosa. Vale per il governo, vale per la pubblica amministrazione, vale per le aziende, vale per tutto quello che facciamo. Devi erogare prodotti e servizi di qualità molto alta, il cliente deve essere sempre contento. Sempre. Se il cittadino che va sul portale del comune, deve essere contento. Se vai in un ospedale e chiede l'assistenza sanitaria, deve essere contento. Se compri un telefono, deve essere contento. Se compri un'auto, deve essere contento. Queste due cose girano intorno a questi due elementi. Qualità elevata e, diciamo, soddisfazione del tuo interlocutore. Secondo me, nel percorso di innovazione, per fare ecosistema, noi su queste cose siamo un po' distratti. Non so se sono uscito un po' troppo dal... però, insomma, era una provocazione sul... Diciamo che la provocazione c'era. Sicuramente, devo devo dire, allora, avere questa esperienza è molto interessante, è molto importante. Io prendo un po' la parte, come dire, positiva in termini di miglioramento, no? Per esempio, e quindi di cultura, in ultima analisi, quello che tu stai dicendo è ci vuole una cultura nel come si fanno le cose, no? Importante. Io devo dire che sono moderatamente ottimista. Negli ultimi anni vedo... la cultura è generata dalle aziende, dalle pubblicanizzazioni, dalle scuole, per esempio, dalla... da come crescono i nostri giorni e quindi devo dire che io conto a tantissimo. Questo negli ultimi anni, a mio giudizio, è abbastanza migliorato. In Italia, per esempio, non si va per niente nel venture capital, abbiamo parlato poco fa, anche abbiamo fatto una lunga chiacchierata in realtà. Beh, siamo passati da forse qualche centinaio di milioni, non più di 5-6 anni fa, a quasi 2 miliardi di investimenti nell'ultimo anno. Mi dirai, e cosa c'entra? Beh, c'entra perché vuol dire che c'è tanta gente che si sta misurando sulla capacità di realizzare prodotti, di soddisfare i clienti nelle varie forme in cui questi vanno soddisfatti. Ci sono dei soggetti che stanno investendo dei soldi. Tu mi insegni che quando qualcuno investe dei soldi, che siano i suoi, o peggio ancora, come facciamo noi, che non sono i nostri, beh, deve avere un'aspettativa di gestione del denaro, di corretto investimento e quant'altro. Tutto questo produce un cambio di mentalità, credo, no? E questo lo sta accadendo molto, secondo me, anche nelle nuove generazioni. Anche lì ci sono situazioni in cui molte discussioni sul fatto se i giovani siano sufficientemente motivati, no? Però molti di questi ragazzi si stanno cimentando. Noi lo vediamo in tanti eventi, lo vediamo in alcune delle iniziative che facciamo, dalla Star Cup al Sios e lo vediamo quando investiamo anche nel venture capital. Pochi soldi rispetto ai grandissimi numeri, però sempre parte di questo grande puzzle. Quindi il messaggio che tu dai, che io condivido, credo vada poi tradotto in una serie di elementi che creano il contesto, ecco, no? Perché il contesto non si genera in maniera automatica, non è che di colpo diventiamo tutti gente che è molto strutturata. Sei strutturato, se entri in un sistema strutturato, se chi ti dà i soldi vuol sapere come li stai usando, no? Se hai dei clienti che si aspettano delle percezioni. Da un punto di vista culturale, dire, ragionare in termini di soddisfazione del proprio interlocutore è un fatto culturale importante per l'Italia che sicuramente è un percorso ancora in fase di costruzione. Un cambio di cultura, un cambio di approccio, quello che poi emerge un po' dalle vostre riflessioni. Andiamo alla slide dopo in cui appunto le nuove frontiere, l'intelligenza artificiale, in generale le telecomunicazioni, tutti i temi caldissimi che effettivamente ci portano nella costruzione di questo ecosistema nuovo, vedendolo anche in positivo. Un commento su questo che poi è proprio la parte un po' più calda in questo momento se vogliamo. Allora, diciamo sia sulle due parole precedenti che su queste per essere molto chiari, no? Io sono d'accordissimo con Carlo che uno deve guardare sempre alla parte dell'opportunità, no? Cioè lì sicuramente, l'opportunità l'avete vista nella prima slide, quando sei il diciottesimo paese in termini di digitalizzazione del sistema, diciamo l'opportunità è abbastanza chiara, no? Hai 17 posti da scalare, quindi non è troppo difficile. Questo qua è un tema un po' più elaborato perché sono tre cose diciamo che camminano insieme ma ognuna delle quali ha delle sfide implicite. Secondo me sulla mia sinistra c'è la persona che sul primo, sulla prima parola è molto più esperta di me perché diciamo il problema vero del settore delle telecomunicazioni, questo lo ripeto anche perché il nostro amministratore delegato lo dice tutti i giorni e sta facendo una battaglia personale e professionale su questa cosa, cioè ne abbiamo un sistema regolatore nel nostro paese che su questa cosa qui decisamente non aiuta, no? Noi abbiamo un paese di 60 milioni di abitanti con quattro operatori telefonici, l'America ha 350 milioni di abitanti e scena tre. Quindi capite perfettamente in questi quattro numeri che diciamo l'opportunità per un operatore telco in un sistema regolatorio controllato che quindi limita la tua possibilità di azionare leve sulle tariffe inevitabilmente ti schiaccia, no? Quindi diciamo noi abbiamo un tema di investimenti perché tutto quello che vi abbiamo raccontato, quello di cui stiamo insieme parlando, senza le connessioni superveloci in fibra, è tutto, cioè intelligenza artificiale, realtà aumentate in sensoristica, i cloud, tutto questo a un certo punto passa sulla rete, senza la rete tutto questo non funziona, no? Quindi noi dobbiamo continuare come paese e lo stiamo facendo ad investire su queste cose, essere sicuri che come paese facciamo sistema, quindi qua ancora ci vorrebbe un meccanismo che ci mette tutti allo stesso tavolo e ci fa capire quali sono le priorità dalle quali non si può prescindere, non si può prescindere, diciamo sulle nuove frontiere il tema mio è quello di cui parlavo prima, no? C'è un tema proprio di tempo, cioè secondo me noi dobbiamo capire, cioè io vi dico una cosa banale che però, cioè io misuro le persone su due cose, cioè le persone che lavorano con me io le misuro su due cose, sulla qualità delle domande e non sulla qualità delle risposte, perché io pago le persone, diciamo, per aiutarmi, per farmi proprio, diciamo, non le pago io, però diciamo nel nostro sistema il tema è come le persone possono farti, darti una sfida anche intellettuale, quindi su come ti possono spingere un po' più avanti e l'altra cosa su come le persone ordinano le priorità in termini di o di gravità o di urgenza o di opportunità. Ecco qua c'è proprio un tema sulle nuove frontiere di decidere noi come sistema, come paese, nell'interlocuzione con i giovani, nell'educazione, quali sono le tre cose che loro vogliamo che imparino, quali sono le tre cose sulle quali vogliamo investire. Io devo dire sono molto laico, no? Può essere il ponte sullo stretto, francamente non lo so, nelle cose sulle quali io lavoro ne ho vista qualcuna più interessante di quella, però diciamo io non faccio quel mestiere, quindi diciamo ci saranno persone meglio posizionate di noi per decidere quali sono per il paese le tre frontiere che dobbiamo raggiungere, però qua c'è proprio un tema di non disperdere energie su 1800 cose ma sceglierne tre. Diciamo sull'intelligenza artificiale io ho solo una frase, allacciate le cinture. Ma guarda, allora sul tema telecomunicazioni e infrastrutture delle telecomunicazioni, io direi questo, allora il settore delle telecomunicazioni negli ultimi 25 anni ha avuto due curve, no? Una curva di aumento delle prestazioni che è fatta così e una curva della pricing che è fatta così, quindi è una croce, cioè è l'unico in effetti settore dove c'è stato questo effetto proprio molto, di grande dimensione, cioè all'esplosione delle prestazioni che vengono riconosciute l'utente c'è stato un crollo dei pregi. Mi ricordo ancora, come dire, quando lavoravamo con i 56k, no? Si chiamava dial up, no? Il router faceva quel rumore. Il pricing è importante, è vero, questo sistema qua è un sistema che ha schiacciato moltissimo il pricing e alla lunga, siccome è un settore altamente capital intensive perché gli investimenti sono stati continui, se noi pensiamo appunto, come ho detto, dal dial up di allora al 5G di oggi in 25 anni, forse sto sbagliando di qualche anno, c'è stata una quantità di nuovi investimenti enorme, quindi nessuno ha sufficientemente tempo, salvo grandi dimensioni, di ripagarsi gli investimenti. Questo è un tema però anche europeo direi, no? Tu hai fatto il caso degli Stati Uniti, che è vero, però diciamo i due mercati andrebbero confrontati Europa e Stati Uniti, negli Stati Uniti c'hai AT&T, Sprint e T-Mobile, diciamo, no? Poi hai un po', diciamo, di local operators a livello di singoli paesi, quindi forse il grande tema è, ma non riguarda solo le telecomunicazioni, riguarda proprio l'infrastruttura europea, è lo stesso problema che si pone attualmente con le banche, no? Non ci sono fusioni trasfrontaliere, cioè il problema del sistema europeo oggi è che non riesce a creare campioni e questo impatta tutto, no? Sono d'accordo con te, i servizi oggi offerti e l'evoluzione dei servizi è stata possibile solo alle grandissimi investimenti delle telco, che però non riescono a prendere un pezzo abbastanza grande della torta da avere quella tranquillità di lavorarci. Le nuove frontiere, secondo me, sono in gran parte legate alla capacità abilitante di queste reti, su questo io continuo a sostenere che è l'offerta che genera, cioè è l'infrastruttura che genera l'offerta, no? Tante cose che oggi facciamo e che ci sembrano banali non sono, non sarebbero state possibili quindici anni fa forse, no? Pensare se sulle ADSL del tempo saremmo riusciti a fare quello che oggi, che ci è successo durante il Covid, credo sarebbe stato complicato. Sull'intelligenza artificiale sono d'accordo che quello che noi stiamo vedendo è una punta di un iceberg e l'innovazione ha questa caratteristica, secondo me quasi sempre, che per un po' sei lì, sta lì, la capisci, tutti quanti ci diciamo sta per succedere, però il giorno che succede il cambiamento è molto forte. Qui siamo in questa situazione, credo che anche nell'equilibrio tra operatori sta per cambiare qualcosa. Io ricordo una volta che sono stato a vedere gli uffici di Google negli Stati Uniti, a New York, la persona che mi accompagnava mi disse guarda noi lavoriamo tantissimo, stiamo cercando di capire se ci sono altri due, Larry Page e Sergey Brin, che si inventano qualcosa che ci spiazza. Beh, qui secondo me, Google o altri, ci sono cose che possono oggettivamente spiazzare lo status quo. Sì, qua aggiungo solo un pezzettino che ne avevamo parlato prima, no? Credo che avrete tutti sentito parlare di questo fenomeno della chat GPT, no? Cioè del... ecco, quello è un sistema molto sofisticato di intelligenza artificiale, e una di quelle cose, io ne parlavo prima con Carlo, che io ce la trovo talmente tanto sofisticata che ogni volta che ne parlo mi sento davvero inquieto, no? Perché è una cosa che insomma vi inviterei una volta a provare diciamo... Sì, è un sistema, io raccontavo a loro che sostanzialmente è un sistema che voi interrogate, come se faceste una ricerca su Google e cercaste, non so... parlami della storia di Garibaldi, ora dico una cosa banalissima, no? E quindi ti esce un... Noi abbiamo fatto dei test e la cosa davvero inquietante, è che se voi fate la stessa domanda per tre giorni di seguito, la risposta evolve. Quindi se io faccio una domanda oggi su un tema, arriva una risposta strutturata, se la faccio domani, arriva la stessa risposta arricchita con dei contenuti, quindi è una cosa che proprio ti entra nel cervello, perché inizia a capire tu che cosa stai... perché sulla base del secondo input tu riaggiusti la ricerca e quindi a parità di domanda in tre giorni diversi la risposta cambia e migliora. Cioè è una cosa che vi devo dire, io non sono un grandissimo esperto di tecnologia, però tra le cose che sto vedendo ce ne sono molte che sanno di futuro abbastanza ovvie, questa sa molto di futuro ma non è proprio così ovvia, cioè è una cosa abbastanza evoluta e devo dire noi stiamo guardando una cosa che lo fa sulla parte business e abbiamo fatto un test che diciamo che abbiamo preferito non divulgare in azienda, però diciamo abbiamo operato due quesiti, abbiamo messo dei dati a disposizione di una piattaforma tipo chat gbt, lato business, due giorni dopo abbiamo fatto due, abbiamo posto due quesiti a questa piattaforma e il risultato è una cosa che noi forse avremmo ottenuto con dieci persone in due settimane, più o meno come tempo medio per ottenere lo stesso risultato, cioè io davvero stasera vi voglio lasciare con questo chiodo nel cervello, il tema è il tempo, non abbiamo tempo, finito, tempo finito. questo è una riflessione che ecco da questo punto di vista sicuramente ci dobbiamo, insomma, le riflessioni corrono e gli spunti soprattutto di che cosa ci possiamo aspettare non più nel futuro prossimo, ma il futuro di adesso e su questo appunto la prossima slide ci ricorda la parola futuro che io prenderei proprio un po' come commento a tutto quello che abbiamo detto fino ad adesso per poi passare all'educazione che alla formazione che è un tema che abbiamo visto e l'impatto vedremo anche in questo senso anche come impatto sulla sostenibilità e quindi sul nostro pianeta. Ma partirei, siete d'accordo dal futuro perché abbiamo visto un po' tutto quello che ci sta trasportando e che di fatto su cui siamo già adesso e che cosa ci dobbiamo aspettare oggi stesso, domani? Sì, io allora questa sensazione di urgenza sul tempo la condivido e la sento moltissimo. Mi sono sempre chiesto, diciamo, come vedevano i nostri antenati, che ne so, l'impatto e l'effetto sul futuro dell'arrivo dell'elettricità piuttosto che... e probabilmente la sensazione non potrebbe non essere molto diversa in termini percettivi, no? Cioè sta per succedere qualcosa di grande. Però sono d'accordo sul fatto che quello che sta succedendo nel nostro mondo è la velocità alla quale succedono cose molto grandi. Perché adesso io vi ho fatto poco fa questo escursus sulle telecomunicazioni, sostanzialmente sulla storia di internet si potrebbe dire, no? E sono veramente pochi decenni, cioè stiamo parlando di un tempo veramente molto modesto e con una accelerazione dell'innovazione che continua. Questo è un problema, ma è anche un'opportunità perché spiazza alcuni, però deve anche... io scusami, faccio il venditore di tappeti sardi, no? Tu prima hai detto il venditore di tappeti persiani, quindi mi pongo il problema di come contribuire insieme a tutti gli altri, non abbiamo la pretesa di avere da soli la soluzione, a posizionarci rispetto a questo nuovo mondo. Faccio un parallelo con... che tu secondo me capisci molto bene, conosci molto bene, che è le telecomunicazioni nei paesi, per esempio, in Africa, no? Cioè cosa succede? Si saltano degli stati, no? Di colpo si va sulle reti wireless, magari non si fa tutto il percorso. Perché lo dico? Perché come piccolo ecosistema che vuole essere connesso, dobbiamo capire dove ci posizioniamo qui, quindi dobbiamo essere veloci, perché se siamo, diciamo, un commando veloce che riesce a formare i suoi giovani, a far sì che le università siano concentrate su alcune cose, potremmo avere, come dire, delle finestre di opportunità. In generale, credo che futuro ed educazione siano per me le due parole più importanti. Credo che il grande lavoro è sui giovani, perché da un lato devono avere strumenti per vivere come cittadini, un mondo difficilissimo, dall'altro devono imparare come futuri lavoratori, come inserirsi. E questo alla fine è quello che almeno per un'organizzazione come quella per cui lavoro io, deve essere credo no, un po' la stella polare, cioè costruire condizioni o aiutare a costruire condizioni, anche lì da soli non ce la facciamo, lo facciamo con altri, faccio un esempio molto piccolo che però al quale teniamo molto, noi lavoriamo con le scuole, abbiamo fatto un bando scuola dove molte scuole sarde fanno dei progetti sull'innovazione, sulla digitalizzazione, sull'uso delle STEM, sul coding, che credo siano gli strumenti che oggi saranno, sono come dire, si direbbe un nice to have, no? Per entrare nel modo del lavoro, ma in realtà devono essere una precondizione insieme all'educazione civica, le metterei come elemento di base. So che su questo tema anche il tuo amico Luca Maestri, molto spesso si è espresso sul tema di quanto questi siano concetti non solo tecnologici ma quasi filosofici, no? E di logica che sono strumenti che tutti i nostri ragazzi dovrebbero avere per poter vivere in questa società moderna. Questo ho provato a mettere tutti insieme, non so se ci sono riusciti. Sì, io provo a dire una cosa molto poco tecnologica su questi tre temi qui. Io credo che qui c'è un tema molto importante proprio di ruoli. Nel senso che io, quando io mi presento in un posto dove inizio a lavorare, insomma, alcuni di questi che sono nella sala lo sanno. Io quando mi presento a delle persone uso delle parole, no? Persone, focus, passione, insomma, alcune parole, insomma, in ordine spazio, che commento? E poi metto un numero su uno schermo e il numero è 60 e chiedo alle persone che stanno di fronte a me che cosa significa per te il numero 60, no? E uno dice 60 euro, 60 chili, 60, c'è ognuno l'età di mio zio, insomma. No, 60 per me significa questo. In una giornata di 24 ore, se voi eliminate le ore che dormite, voi trascorrete il 60% del vostro tempo con le persone con cui lavorate o con le persone con cui studiate. Quindi il 60% della vostra vita, quando non dormite, voi la state affidando a qualcuno, cioè dei ragazzi, dei colleghi che stanno qui in parte la stanno affidando a me, però io ho affidato ai miei figli il 60% della vita dei miei figli a delle persone che guadagnano 1.500 euro al mese. Allora, in un paese, in un mondo, perché magari questo succede, accade anche altrove, non lo so, perché io non so che succede in Spagna o in Francia, però se le persone alle quali ho affidato la parte più importante della vita di un figlio, che è la parte in cui questa persona costruisce le sue fondamenta, a quel livello di remunerazione, noi abbiamo un problema, ripeto, un po' più complicato del ponte sullo stretto. Quindi, secondo me, il tema dell'educazione, come diceva Carlo, è un tema chiave, cioè come far partire questa cosa, no? Perché alla fine, diciamo, tutte queste cose, purtroppo, non solo nel nostro sistema, ma anche in altri sistemi, sono come dei treni che camminano su binari diversi, no? Tu qua hai veramente bisogno di mettere 4-5 vagoni, con 4-5 parole che contano, e attaccarle a un locomotore. Cioè, noi dobbiamo spiegare bene le cose che vogliamo fare, ma soprattutto fare le cose che diciamo, perché se no, stiamo sempre in questa lavatrice dalla quale non conosciamo mai. Quindi, il tema è molto semplice, dobbiamo decidere anche su queste cose, quali sono le cose che vogliamo fare, spiegarle chiaramente, però poi farle, perché quando, e questo serve pure nella misurazione di quello che facciamo, le persone che, cioè se voi chiedeste a molte delle persone che con voi collaborano, dei vostri amici, di spiegarvi in tre minuti, quello che fanno, molti faranno fatica. Se tu in tre minuti non sai dire che fai, non l'hai capito, o non lo sai, o non te l'hanno spiegato bene. Quindi bisogna partire da queste cose. L'esempio che faceva tu di Luca Maestri, che è per coincidenza anche il mio più caro amico, mi fa molto piacere, perché quel signore che oggi è l'italiano più importante al mondo, cioè il numero due dell'azienda più grande del mondo, ci è arrivato perché è una persona che pensa in maniera semplice. Ed è uno che non vuole fare l'ingegnere, non vuole fare l'amministratore delegato e non vuole fare marketing. Fa finanza e la sa fare bene. Quindi noi dobbiamo uscire dal mondo in cui tutti siamo bravi a fare tutto, capire per ruoli che cosa siamo in grado di fare, dare il massimo in quella funzione, vendere le idee su quello che vogliamo fare e poi fare le cose che diciamo. Qua vado in pausa. Mi sembra appunto, Carlo, un consiglio anche da parte tua. Abbiamo visto diverse, diversi. Non mi sto candidando a fare il presidente della regione Sardegna. Abbiamo visto diversi temi, li abbiamo un po' affrontati, proprio un po' come un percorso, un viaggio. Se dovessi dare un consiglio anche appunto a un a un giovane, parliamo di educazione, di futuro. Il tema, il tema è enorme, sono d'accordo e ci sono alcuni aspetti strutturali, eh, oggettivamente. Io credo che quello che quello che noi ci spetta è fare il massimo nelle condizioni in cui ci troviamo, no? quindi, eh, dal mio punto di vista dovremmo prendere, prendo un po' quello che dice Velio. Alcune cose non troppo complicate ma farle diventare, eh, chiamiamolo mainstream, cioè tutti devono avere certe consapevolezze. Abbiamo parlato prima della scuola, eh, credo che delle volte, mh, i problemi sono complessi, è inutile che ce lo neghiamo, però delle volte alcune cose precise che diventano di dominio comune e di consapevolezza comune sono quelle che fanno la differenza. Consigli, poi io ho anche figli giovani, quindi diventa complicato perché c'è troppo una parte personale. Eh, per me il consiglio è avere, eh, essere motivati, cioè essere, avere, come dire, consapevolezza di se stesso, fare delle cose per le quali siamo, siamo motivati. Non tutti dobbiamo diventare amministratori delegati di qualcosa, ma quello che facciamo lo dobbiamo fare il meglio possibile e con voglia ed entusiasmo. Questo secondo me è fondamentale. Sulle materie, ho detto, valgono l'italiano, la matematica e alcune cose. Cioè, studiare certe cose serve a capire perché TikTok funziona in quel modo o perché GPT funziona in quel modo e quindi hai lo strumento per capire nel bene e nel male come questi strumenti a loro volta ti impattano la tua vita. Quindi credo che questo sia un passaggio fondamentale. Se fosse per me, come dire, metterei proprio come eh materia obbligatoria quella di capire come funzionano queste tecnologie, perché se no si rischia che passi, i ragazzi passano una parte di quel sessanta per cento o una parte, un altro dieci per cento della loro giornata, dentro strumenti che non hanno, non sanno come funzionano e questo è fondamentale eh per poter essere dei cittadini in futuro. Non so se vuoi dare una ma io lo so insomma ora chiaramente cioè io a dicembre compio sessant'anni quindi non so giovane dove si colloca no? Cioè però diciamo se 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 io dovessi parlare una persona che si è appena lavoreata direi che eh diciamo è troppo importante secondo me il fatto di capire eh un po' cosa guida la tua passione eh? Cioè io dico sempre che quando tu la mattina ti ti trucchio, ti fai la barba, devi guardarti allo specchio e devi sorridere perché devi pensare che stai andando in un posto dove ti diverti no? E quindi per fare questa cosa eh cioè venire in team è una una possibilità eh ce ne sono altre però devi fare una cosa che è collegata alla tua passione. Se tornassi qualche anno indietro rispetto ad una persona che invece ha già deciso più o meno cosa vuole fare da grande credo che le due cose sulle quali spingerei le persone la prima è essere curiosi cioè ci vuole molta curiosità cioè devi essere sempre molto interessato a quello che succede. Io quando facevo la battuta alzare gli occhi dal telefono e guardarti intorno devi un po' respirare e poi secondo me c'è un tema che è un po' legato al carattere alla stamina delle persone però ci vuole fame cioè le persone devono avere fame cioè io raccontavo prima a Carlo se voi mi mettete su una spiaggia io ho cinquantanove anni e facciamo la gara con i ragazzini a fare il castello di sabbia io voglio fare il castello più bello cioè ancora mi metto con la paletta il secchiello e voglio fare il castello più bello cioè questa cosa qui ti deve proprio entrare dentro c'è una cosa perché tutto cammina troppo velocemente e quindi secondo me questi ingredienti curiosità attenzione al dettaglio e poi ci vuole tanta fame grazie grazie mille grazie a voi e siccome è venerdì sera ricordo a tutti che c'è anche un un aperitivo quindi ci possiamo spostare tutti di là grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie a